amici sportivi amici fanta allenatori buongiorno bentrovati dal vostro veterano del fanta calcio analizziamo ancora la stagione appena passata ma anche e soprattutto per pianificare la stagione successiva abbiamo visto nei video scorsi quanto è stato bello prendere delle scommesse a un pa un credito a un prezzo base importante anche in alcuni fanta fanta calci importanti come quello dei fanta youtuber è andato via le house vi ricordate è solamente un credito in questo caso facciamo il video al contrario andiamo ad analizzare i giocatori che abbiamo pagato tanto in proporzione al loro rendimento e cerchiamo di capire il perché e come evitare in futuro questi errori anche se come sempre è molto complicato e molto molto aleatorio ma cerchiamo di darci qualche mattoncino per il prossimo fanta calcio prima di partire vi ricordo di abbonarvi al canale con l'abbonamento riuscirete ad avere tantissimi vantaggi tra cui la guida strategica che in corso di predisposizione per il prossimo fanta calcio quasi pronta l'abbonamento permetterà di avere gli accessi limitati all'app di magic o con tutte le funzionalità premio e di avere accesso anche tutti i file del veterano quindi importante abbonatevi se non potete se non volete abbonarvi chiaramente va benissimo anche il passaparola per far crescere sempre di più il canale del veterano il passaparola non costa nulla così come non costa nulla il like a questo video partiamo dunque andiamo per ordine e ho chiesto a tanti amici nel sondaggio abbiamo risposto hanno risposto più di cento persone quindi sondaggio importante ho chiesto qual è stata la vostra delusione fanta calcio per la stagione appena passata quanto per cento ha votato debri ha votato i ricic sull'olandese una riflessione importante ci va fatta lui era stato pagato mediamente abbastanza perché era un difensore da modificatore difesa quest'anno è andata male ma non è andata male l'inter perché i compagni reparto scrivere bastoni hanno fatto bene l'olandese in particolare è stato sotto le aspettative qua diciamo che un errore non errore perché di fatto la media voto era interessante per lui di fatto non ci si attendeva i bonus importanti ci si attendeva un rendimento costante nel corso dell'anno così non è stato però comunque non me la sento di dare la colpa a chi ha questa doveri a un prezzo giusto chiaramente non oltre il prezzo prestabilito idem abbastanza su ilicic è vero che c'eravano un po i presupposti del fatto che non stesse ancora tanto bene quindi qualche potenziale scommessa è stata presa in questo senso chiaramente dove è stato pagato di più e dove ha reso meno mi attendo che appunto qualcuno abbia dato risposta come delusione per il fanta calcio però diciamo che ilicic era abbastanza preventivabile 5 per cento invece su mancini questa cosa mi sorprende di più su mancini perché anch'io inizio anno pensavo che per il difensore centrale romanista fosse un'ottima stagione invece ha fatto quasi il recolo dei cartellini gialli prestazione abbastanza in colore poi io lo consideravo un semi top alto un top basso così non è stato questa cosa ci insegna che comunque anche sui nomi altisonanti possono essere travolta delle esche e quando sono in super hype così com'era in super hype mancini quest'estate forse è il caso di utilizzarla come mesco quindi questo può essere un attimo consiglio per l'anno successivo su damsgar 5 per cento anche qua ha pagato da semi top alto e questo dopo la rete contro la danimarca in semifinale contro l'inghilterra e quindi ha avuto un leggero incremento del prezzo è stato pagato tanto dappertutto l'infortunio ne ha un po di popolato il valore però credo che su damsgar il prezzo giusto non fosse quello da semi top alto ma quello da un semi top medio quindi anche voi per il prossimo anno non fatevi prendere delle sirene di ulisse prendetelo un prezzo giusto perché comunque il cuore rendimento deve essere quello di questo livello perché ancora non è arrivato a livelli eccessi quindi teniamo comunque abbastanza basse le aspettative su damsgar 5 per cento anche su marino schi l'ucraino purtroppo con la guerra ha un po bloccato la guerra ucraina ha un po influenzato e bloccato le prestazioni che stavano per arrivare quindi è partito malino qualche bonus poi l'ha fatto vedi contro l'interne in trasferta poi è ricaduto un po nel barato poi stava risalendo poi la guerra ucraina l'ha bloccato effettivamente quindi grande delusione per lui che comunque è considerato un top di reparto quindi l'anno prossimo dovesse andare via un prezzo base 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 io direi che si può prendere tranquillamente l'ucraino perché il talento per far bene c'è assolutamente passiamo ai giocatori in doppia cifra passiamo a parlare di zirinski anche lui è un giocatore che non ancora ha dato il via definitivo alla sua esplosione in carriera però mi aspetto ottima performance da polacco chiaramente anche qua come marino schi non va pagato come super top di reparto va pagato come un top basso o semi top alto al contrario però come marino schi può essere un ottimo affare per il prossimo anno anche io mi aspettavo tanto da zirinski qualche volta ha mostrato sprazzi di calcio interessante dopo di che sia un po abbassato nelle prestazioni 11 per cento su zaniolo e su zaniolo qua bisogna farci una riflessione perché il giocatore ha dei picchi altissimi vedi vedi la coppa della conference league in finale ma anche la tripletta contro il bordo però non ancora con la costanza di rendimento tipica dei fanta calcisti dei fanta allenatori che appunto vengono richieste come prestazioni questa cosa mi inficia sicuramente il valore purtroppo viene pagato sempre tantissimo io quest'anno ho fatto un video su di lui dicendo che prima della finale di conference sarei disposto a pagare 4 5 per cento non di più quello secondo me a prezzo giusto oltre diventa un pazzo d'esca quindi consideratelo in tal senso peccato perché il giocatore ha un ottimo talento peccato che la testa non sia non accompagni di pari passo questa cosa mi dispiace veramente moltissimo perché un talento veramente super 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 giocatore che ha deluso tantissimo è ken 9 per cento l'ha votato scusate me l'ha passato poi di mente ken che era subito prima lista ma mi è scappato chiamato di fatto per sostituire all'ultimo cristiano ronaldo ma di cristiano ronaldo non ha avuto neanche l'anticamera del cervello e quindi veramente una super delusione per chi come tanti fanta allenatori hanno puntato sul giocatore italiano per cercare di mettere una pezza al loro attacco ma veramente è stato abbastanza abbastanza erudente più che la delusione dei fanta allenatori sembrava proprio lo scarso impegno la scarsa volontà di mettersi in gioco e quindi questa cosa ha dato parecchio fastidio un po come zaniero anche lui mezzi ce li ha ma comunque non li mette tante volte nato partiamo parliamo degli ultimi due giocatori parliamo del gatto soriano il giocatore che ha fatto nervosire tantissimo tanti fanta allenatori hanno scuso prestazione anno annata direi super l'anno scorso mi ha avviso gli chiedeva loro da leader di fatto nel bologna e lui l'ha tenuto in maniera importante grazie ai suoi bonus sono arrivati vittorie pesanti anche per i fanta allenatori quest'anno a mio avviso con l'arrivo di arnautovic ha perso un po la parte carismatica del bologna e quindi si è dovuto un po contentare delle retrovie però chiaramente questo non giustifica praticamente l'assenza di bonus e tanti fanta allenatori che si ricordavano anche delle prestazioni passate di fatto hanno continuato a metterlo in campo sbagliando continuamente magari lasciando gol inattesi quindi questa cosa ha dato parecchio fastidio fanta allenatori non solo per le prestazioni di quest'anno ma di mancate ma anche per il fatto che non sono riusciti a mettere in campo un degno sostituto che poteva fare molto molto bene anche per soliano così come marinoschi e così come zilinski potrebbe essere buona l'annata dove si prende un prezzo basso tenendoli come magari quinto stesso slot per cercare di portarsi a casa una bella scommessina per il prossimo anno delusione delle delusioni ormai hanno votato tutti 30 per cento uno su tre quasi ha votato l'esito muriel questo perché di fatto muriel è stato pagato mediamente in tutti i fanta calci tra i primi 4 5 giocatori quindi ci si atteneva da lui almeno 15 gol costanti tendenti verso i venti invece è stato fino all'ultimo sotto la 2 per cifra poi è superata grazie appunto all'ultima prestazione ma non è bastato a non far perdere la fiducia nei confronti di muriel e tanti fanta allenatori ha deruso parecchio così come compagno di reparto zappata purtroppo veniva da un'annata importante tanti si sono fatti si sono fatti illudere però l'infortunio subito le prime giornate ha bloccato la crescita di questo è un giocatore super ma che troppe volte ricade nelle nelle cadute di fortuna questa cosa non lo aiuta certamente io anch'io ci sono ricaduto mediamente cambio sempre l'attaccante però visto l'anno scorso muriel quest'anno l'ho riconfermato pagandolo chiaramente tanto perché lo paghi comunque di 25 30 per cento e questa cosa ti va a incidere inevitabilmente nel rendimento della tua squadra quindi anche questo caso dico come gli altri giocatori se muriel dovesse andare via un prezzo basso dovesse anche andare via dall'atalante passare in un top club tipo juventus inter a fare la panchina e comunque tendenzialmente muriel bene o male me lo porterei sempre a casa chiaramente spendendo il minimo il minimo indispensabile questo video come tanti altri servono per tutti i fanta allenatori e spero che appunto vi sia di supporto per preparare la prossima stefanta calcio io vi auguro una buona giornata ea presto da veterano ciao ragazzi